Perché l'anno scorso anche giustamente forse è stata vissuta come un sogno, nel senso ce l'eravamo conquistato, il sogno era lì, se si avverava sarebbe stato fantastico, se non si fosse avverato saremmo andati avanti ugualmente. Per carità succederà la stessa cosa e non dovessimo passare domani, però sicuramente il fatto di averlo lì a portata di mano per due anni consecutivi e nell'eventualità di non riuscire a coglierlo sicuramente ci lascerà molto più amare in bocca rispetto allo scorso anno.